Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e ti do il benvenuto al primo appuntamento con i video delle Sticks and Pad Nights. Ora ti spiegherò come funziona. Saprai già che Facebook ci permette di fare delle dirette streaming gratuite, ma so anche che gli esercizi di meccanica, quelli ripetitivi, non sono proprio il massimo della gioia e del divertimento. Vero? Però sono importanti e fanno la reale differenza fra un batterista bravo, capace, preparato, eccellente e uno mediocre. E allora ho pensato di trovarci ognuno a casa propria, davanti allo schermo del proprio PC muniti delle proprie bacchette e il proprio pad, per allenarci insieme, in diretta. Potremmo allenarci insieme eseguendo degli esercizi che io ho compilato apposta per questo scopo tanti anni fa. In pratica sono dei semplici warm up che ho usato e uso io e che condivido con i miei studenti da oltre 20 anni. Questi esercizi ti aiuteranno a sviluppare potenza, controllo e velocità delle tue mani in un nuovo modo entusiasmante. Vedrai? Allora ogni mercoledì sera potremmo vederci alle 21 e 30 ed eseguire insieme questi semplici esercizi e tu potrai copiare i miei gesti tecnici come se io fossi proprio lì, di fronte a te, a casa tua. Poi alla fine di questo workout, che durerà all'incirca un'oretta, ci fermeremo ancora per altri 30 minuti per una sessione di domande e risposte. Potrai chiedermi tutto quello che vuoi. Sono qui per questo. Non mi ricordo se ti ho già detto che queste dirette sono gratis. Infatti partecipare alla diretta non ti costerà nulla. Per cui ogni settimana eseguiremo sempre gli stessi esercizi incrementando però la velocità e se sarà necessario aggiungeremo alla mole di lavoro nuovi esercizi. Ne ho una quantità. Lavoreremo ininterrottamente per almeno un'ora. Senza soste. Un po' come andare in palestra ad allenarsi, no? Per cui se ancora non l'hai fatto metti il like sulla pagina di The Drum Booster oppure iscriviti al gruppo Strumenti per il batterista intelligente per ricevere le notifiche dei prossimi video dove continuerò a spiegarti come ci avvicineremo a queste dirette che ti ricordo si intitolano Sticks and Pad Nights. Per cui ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio da Ruggero. Ciao!